buongiorno a tutti i vegeteri youtube sono a volte benvenuti a questo video del venerdì perché sto dicendo comunque sono venuto questo gioco che sarebbe il videogioco della canzone famosissima di pineapple pen e so che un senso magari alcuni di voi ci hanno giocato 50 anni fa però però io volevo giocare solo adesso perché mi andava da notarsi il cinese buon natale no dai non ci credo è la parodia conti che questa canzoncina panna e poi bravo su gioco e mi ma sono scarsissimi ma mi ma quanto sono scarsi c'è ma come ma dai era giusto no sì ma sono tonta anch'io è ma dai adesso di pochissimo ma sono scemo ma sono scemo ma sono scemo non so chi sia con la renna però mi ispirava monete mi so che mi farà sclerare come bello bellissimo io sto zitto tanto guarda devo commentare mettere la mia pelle la mia scarpita e va ci cago l'audio perché sto verso cinese che dice pineapple pen mi dà fastidio non sarà seta contro i cinesi tranquilli però sto audio mi dà veramente fastidio pineapple pen nooo questa renna mi ispira monete si quattro meglio di niente oh pen pineapple apple pen nooo stupida renna stupida renna ananas dai devo battere il record di nuovo almeno a dieci devo arrivare sì ma se comincio così proprio riuscirò ad arrivare a dieci nooo nooo che nervi e beh ecco se lancio sempre la penna in mezzo ok sì ma dai ma era vicinissimo ma come posso sbagliare così ve l'ho detto che sto scarso questo gioco ve l'ho detto ve l'ho detto e ve lo continuo a ripetere alleluia otto dai manca uno ok oh dodici sto scaricando tutto a caso che sta qua non l'ho mai sì nooo stupida mela però ventuno cioè devo dire che metta cosa è questo grazie ho preso dieci molette tanto poi sto gioco lo cancello quindi aspetta no tu ti metti qua in alto e ti puoi scaricare la x vai pac sto gioco dopo un po' pre noioso però non so perché ci sto giocando però vabbè bello però una mira di poco però cioè sono migliorato però non voglio gufare appunto come si è appena successo ma cosa vuoi ancora boh boh no andava più veloce rispetto agli altri ok no giusto ci sono due io ho mirato a una quindi l'ho mirato a una niente ce la faccio ma perché metti già Natale che non è ancora arrivato Halloween ma mettevi la modalità di Halloween stesso beh il tizio con la faccia da zucca oppure invece che la renna mettevi un fantasma ma perché metti già Natale non so magari in Cina a Natale si festeggia prima di Halloween cioè non so non conosco le tradizioni cinesi dai re re renna ragazzi sto gioco mi sta facendo incavolare finora questo video e dopo mi verrà mal di testa che poi noioso non so perché l'ho scaricato perché ho visto che giocavano gli altri un mese fa che ha conoscito sta canzone e quindi volevo provare cioè un mese fa ma cosa un anno fa e quindi mi andava di provarla vabbè niente ho perso il potere magico no vabbè niente niente ah ok boh non so cosa fosse ridi ridi ah 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 no questa era tristissima come già boh ho già preso un altro scorro va bene boh no di poco sta andando così bene ragazzi non vi consiglio mai questo gioco ma va non ve lo consiglio ma 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 manco morto ve lo consiglio manco sotto effetto di qualche cosa brutta ve lo dico ve lo consiglio è noioso bene ha avuto su un momento il successo con la canzone però adesso adesso è triste ma che poi non ci sono neanche diverse modalità boh boh ragazzi guarda non c'è neanche più voglia di giocare al suo gioco devo dire una cosa importante vi ricordate che ieri vi ho detto che c'erano i video martedì, mercoledì, giovedì e venerdì bene ho già ripensato e fare i video quattro volte a settimana ma in giorni così a caso quando ho già tempo quindi possono uscire due video lo stesso giorno e quindi possono uscire due video in un giorno e gli altri due video escono in due giorni diversi quindi alla fine i video sono per tre giorni penso che abbiate capito ok, spero che voi abbiate capito e quindi questo video tristissimo, inutile, può finire qui mettete like, dislike se vi è piaciuto o non vi è piaciuto questo video scrivete nei commenti su quale vi gioco reso faccio un video o se vi piace questa programmazione dei video e niente, al prossimo video BOOM